L'esenzione dell'IRPEF per i redditi agricoli fino a 10.000 euro, come considera questa misura del governo? Sicuramente è un segnale, però come Confagricoltura abbiamo chiesto di coinvolgere un'esenzione dell'IRPEF per tutte le aziende agricole, perché esentare le aziende agricole che producono e che creano competitività sicuramente smorziamo quella che è la capacità di produrre e di fare reddito in agricoltura, di creare occupazione. Ma intanto si raggiunge oltre il 90% delle aziende con questo provvedimento? Ma questo sicuramente lo dovremo andare a vedere con i dati, però riteniamo che ovviamente questo non sia sufficiente. E poi andiamo a Taranto, il problema del carburante agricolo, ci sono problemi con il comune di Taranto? Sì, purtroppo abbiamo dovuto denunciare quella che è una mancanza, una disattenzione vera e propria che c'è da parte del comune di Taranto rispetto a quella che è la questione agricola e quelle che sono le aziende agricole. In questo momento di grande movimentismo nel settore agricolo, grande difficoltà, grande crisi, da parte invece del comune di Taranto c'è una latenza e addirittura ci lasciano senza il gasolio agricolo. Perché? Perché non hanno voluto incaricare un funzionario che si debba occupare dell'ufficio UMA, un ufficio che viene delegato dalla Regione Puglia ed è una delle attività principali dell'assessorato e in modo particolare attività produttive.